Hey la, salve a tutti, sono TheBene96 e bentornati finalmente sulla serie di Cast & Crushers in co-op con Federico Ciao Ciao Ragazzi siamo tornati nel punto dove sarà buggato l'ultima volta, tipo due anni fa, tre anni fa Sì È un po', un po', è passato un pochino, stavolta sembra funzionare Oh Santissimo, ah sì ma io non c'ho vita Porca cazzo, oh che? Dark Soul, le melme Se me prendono sono morto Vabbè tanto la tecnica di risuscita Salto, zompo, zompo Ah sì ragazzi se ci vedete, tipo come over livellati Ah sì, abbiamo dovuto rifare un po' di volte la boss fight Perché abbiamo dovuto rifare un po' di mille volte e quindi ci siamo livellati So facile Eh per vincere il boss ci siamo risuscitati a vicenda come stronzi Chi spamma vince Però io la chiamo strategia Esatto esatto, è una strategia di fondo molto interessante Oddio che palle sti slamini però SGA Oh nooo就可以 , dai ש Che volono Oddio Eh lo sapevo io, lo sapevo Oh no Ma perché fa la capriola? Eh non lo so anche a me, ogni tanto mi fa un po' incazzare Sinceramente oh moriii oh m'ha preso meciuccia meciuccia vabbè lo slime pedofilo è lo slime chi è? è un ultimo oddio scappa oh no un altro boss oddio scappa come si uccide? questo caca e questo c'ha asciuttato non me di non me di era un altro livello che culo o santissimi cinesi vabbè ma come muoio male ma stanza tipo piu 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 ora li trovo cazzo di merdo madonna santa però che palla che non si possono saltare i livelli filmati i livelli magari ma la cacca fa male e penso proprio che si cazzo cazzo che male è un dot no 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 ma è scarso la leccata non mi... è che sale è scarso però io sono un coglione oh no 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 c'è poteva finire tutto poteva finire tutto oh mamma mia oh c'è prima carino oh stai per slivellare attenzione potrebbe essere la svolta epocale si ma neanche così tanto velocemente è il pipistrello eh ho capito come funzioni boss basta andarti alle spalle sei molto più semplice come ha fatto a prendermi? oh no non mi puoi morir però quando c'ho due hp nooo pur codio aiuto non vedo dove sono non mi vedo non vedo non vedo ok nooo che palle no la cacca oh oh attenzione potrebbe essere e soprattutto questo oh io sono morto devo livellarti il cazzo veloce prima che caga oddio quanti pipistrelli oh no abbiamo preso la merda Fede muori no ma mi ha preso dai ragazzi il tentativo corretto questo non ha detto e l'ho detto che si dai 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 cacca bravo cacame in bocca cacame in bocca cacame ho preso la cacca però ha detto che non cagava nooo l'hai fatto una combo ma guarda ma si ma come vedi faccio più danni quando faccio una combo in bocca ma non riesco a prenderlo quando vola si li togli tipo metà vita oh no son morto ma perchè mi giuccia mentre son morto vabbè si tanto adesso vola vai 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 ma perchè ma perchè veramente è porco eh cosa oddio pesello vabbè mi da l'ansia sto boss perchè non muore oh vabbè stavo per dire non mi appreggio neanche una volta con la merda ed ha anche avvelenato mi ha anche avvelenato madonna e serpente vedi che è combo comunque basta che fai così sii con la y continuo a menarlo mentre sei boss no basta andargli alle spalle in realtà non è ma a volte mi prende anche alle spalle oh 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 attenzione madonna pussola dopo che livelli al massimo la forza chi è? gianfranco ah guarda sono arrivati gli stronzi che non hanno fatto un cazzo ah guardi mi compagno certo certo ah no vabbè riccazza oh si che devo fa' abbiamo superato il livello ah abbiamo vinto abbiamo vinto 74 salgo? salgo? ah no per un punto probabilmente madonna sc e mo? scusa come abbiamo fatto da arrivo a qua? eh? eh si ma io ho notato che in passato abbiamo lasciato indietro questo livello eh questo dobbiamo lasciarli indietro perchè ci serve un altro potere mi sembra sai è fatto apposta prima bisogna andare tramitelli in su ecco si ehm fabbrica vabbè dato che penso che questo dobbiamo fa' eh si tanto è un vicolo cieco ah si era una cosa del mini boss forse dove bisognava salvare una notizia ciao signorina donna ti spacco la porta ah buono ho bisogno ah non possiamo aspetta vediamo no non sei sufficiale eh si e niente come si torna la mappa? ah ritorna la mappa ok vuoi perdere tutti i progressi? e per forza e allora ci tocca andare di qua il campo fioridos eccoci bello eh vabbè quanto rallenti? madonna ma perchè va rallentatore? ma no cosa dici? è cinematografico cosa stai dicendo? ma perchè sto rallenti? non lo capisco ma guarda ma perchè? ma perchè? oddio le api fatale ma non capisco niente con sto rallenti ho livellato ma si è livellato si ma non sto capendo niente neanche io si è rotto il gioco ragazzi aspettate controllo appena ci diamo a sto gruppo oh ma ci aiuta il re eh? ah se è tornato boh va a capire che è successo eh ma è che cos'è? va a capire che cosa dipende a sto gioco c'è un po' di problemi sinceramente eh vabbè ma ancora ma non capisco ancora sti apini ma sono sti api che fanno la ga ma ma questi qua a catapulta non fanno niente la banana bananina banana 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 vado vado segue il re il re dei poveri quindi il nostro eh ma io non capisco che sta succedendo in sto gioco ma strano che facciano laggare non lo so via non aspetta ma può essere quell'impostazione che ho letto all'inizio che se la grafica eh ti guarda strano è strana non lo so potrebbe se no prova a abbassare tanto di grafica non ha nulla sto gioco no però boh però prima non lo facevo non lo so ragazzi non lo so vedi ogni tanto boh non ne ho idea ma è bella la lancia ah come entro? vai forte la madonna che volo come sono ancora qui ho fatto poco però vabbè basta dai salgo si scala scalo la castella che è? che spaventa aspetta può crollare qui ah no estetica l'estetica ma non si vede mi metto nel bordino si ma non si vede sai qual'è il problema che io sono insieme a questi i miei fantomatici compagni eh infatti ho capito chi cazzo sono da qui non si vede niente già si vede poco questo gioco si perchè questo è uno dei personaggi bonus che ottenevi a fine gioco ah si? e potevi fare parte dell'esercito ah si? e potevi fare parte dell'esercito ah c'è il barbatrucco nella società oh quanti so ma no tutti vede a fuoco tutti vede a fuoco vabbè invece vi siano tutti morti non lo so no sono tutti più che vivi quasi no ne ho fatti tipo fuori un 6 buttandoli contro la parete e permastunandoli perfetto ma io non capisco quale sei tu e quali sono qui qui quello che salta ok ok quello che salta come un deficiente quello che salta come un afro americano americano non so cosa cosa c'entri però noi facciamo finta che c'entra tutto x come questo lag ah scendo? ah la x vuol dire che salto vabbè ma se li blocchi al muro fai così e fai la fine oh è grosso questo eh ma vabbè tranquillo grosso che sia vabbè ancora vivo non muore eccolo vado vado freccino vabbè pronto buongiorno ma io abbiamo rotto la torta dei matrimoni helpmi helpmi un cazzo aiutati da solo che vuoi da me che vuoi da me? io non capisco spacco i tavoli io rubo i dolci ma io voglio soldi più che dolci scusa eh che so scemo eh eh ma non so io mi ricordo delle combo di sto gioco che non funzionano più ma può essere che ci siamo confondendo con un altro gioco? potrebbe essere ma tranquillamente perché non non lo so ah ma si rompono i tavoli ancora vivo sei tu ti do fuoco ho visto che possiamo curarci ma perché? ma ho rubato tutto ma che ne so ma posso anche vendermi il cadavere qui? ah no il cadavere non penso che sia qui è dietro? c'è segreto? non lo so magari ci sono gli animaletti segreti no non c'è nulla è uscito da dentro la torta vediamo vediamo carica che è quel biscotto lì strano? se è un biscotto ma è un biscotto sembra tipo meteorite buono il meteorite di cura buono il meteorite è il buono delle un metro lì ragazzi finiamo questo livello vediamo dove finiamo probabilmente c'è un boss alla fine eh che palle sti boss però te li mettono nel momento peggiore quando sei tutto ferito ah ma curati ah le monete le monete non mi ricordo cosa servivano ma le prendo per lo shop penso che si troverà più avanti ah qua c'è il boss ah ok si qui c'era il boss mi ricordo no ahia eh vabbè me lo so prendo più in bocca ti ho tirato a granata manco Vietnam ma sono proprio magnata c'è c'avevo fan buona magnate stupezzo de bastone si ma quanti HP ci hanno i nemici però sono tipo semi immortale vabbè appena finito vabbè escono dalle fottute pareti letteralmente toh 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 ma io ogni tanto faccio tipo una presa turbo tecnologica che non ho capito neanche io come la faccio a fare però vabbè cosi ah no vabbè è morto è morto è morto è morto è morto oddio stiamo a morire e qua sta finestra si entra eccolo ma perchè c'è sempre il boss quando non abbiamo vita eh ma porca oh no no porco disos oh oh gelato al cioccolato dolce e un po' salato messo ho preso la bomba in testa yeah yeah gelato allo salame tutto bello ma mi su palama livello 13 eccoci siamo tornati dai dai che stavolta mori oh cattivo mori mo li facciamo i danni adesso ci ciotto io no 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 scherzavo oh ah che oh ma è in bocca oh scherzavo scherzavo no c'era la cura ma vedi un cazzo io ma la smette è il vietnam vedi vedi l'abbiamo detto questo è il vietnam vero si ma sta bombardando anche la principessa in realtà non sarebbe già ma ecco che culo oh lasciami e devi come ma mi ha shottato eh the player ce la fai the player ce la fai vabbè il papà mica può prendere madonna arrivo a cazzo durissimo così ma sai che forse sarebbe stata una buona idea che uno potenziasse la forza e l'altro la magia potrebbe essere eh ah ma picchiano anche gli areti ogni tanto ecco chi è che mi sposta i nemici da davanti faccia di merda vabbè ma sta bomba me la devo sempre prendere nella bocca di solito ero io manco fossi eh ti so io una porno star no no ti frego vai 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 oh l'abbiamo quasi ucciso dai oh è sei incazzato eh oh ah se mi spiace per tutti sti sti rallentamenti che fa purtroppo non è una cosa che possiamo decidere noi no ma non ero in direzione di tiro però ah forse c'è un po' di away eccolo no 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 ha dei danni forti questo ancora ora oh ma ti venisse in malore l'infartino quando gli infonfico questo martello nel culo ma l'infarto non gli avviene no eh oh sai che forse è meglio che muoio adesso così ti andrò con più vita ah dici per farci uscire mi faccio uccidere si vai vai eh vabbè non sei morto eh ho capito prendemi in the face no no questo è nemmeno io so quello che ho full di vita picchialo fede picchialo fuori ho trovato la comba infinita guarda l'ho permastunnato la tua chiesa dai fatti amazzare fatti amazzare ok insomma non vedo non vedo attento fede no stai attento se mi ferma su vai 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 ok così c'è un po' più di vita dai parte gli faccio una magia ed è morto mi preparo già oh ma quanto spa crepa figlio di puttana oh no ben vinto e ora è il tempo ceciuccia chi è? salve che fa? no posso spiegà è morto e no dai ma sei stronzo ci dispiace la principessa è in un altro castello ragazzi l'abbiamo fatto che? che cos'è? poco veloce abbiamo finito il gioco che sei mi piacerebbe vabbè ragazzi mettiamo torniamo alla mappa ok così ci rivediamo nel prossimo episodio con questo livello che è la panava quindi da Federico è tutto ciao a tutti ciao cari ciao ciao